Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolissi. Apriamo anche questa edizione del nostro telegiornale con gli aggiornamenti sul coronavirus in regione. Continua a salire la curva dei contagi. Su 208 tamponi processati nelle ultime 24 ore è risultata positiva una persona di Filignano proveniente da Firenze e una a Termoli rientrata dalla Sardegna. Si registra anche un guarito legato al cluster venezuelano. Allo stato attuale quindi sono 56 i positivi covid in Molise di cui uno ricoverato a malattie infettive al Cardarelli. Intanto ha riaperto la sede delle poste centrali a Campobasso dopo la sanificazione, dopo che una dipendente ha accusato i sintomi del covid ed è risultata positiva. La donna ha avuto contatti con i soggetti tornati dalla vacanza in Grecia e trovati poi positivi. L'azienda sanitaria ha avviato come da prassi la ricostruzione della mappa dei contatti della donna e sei colleghi anch'essi dipendenti delle poste sono stati sottoposti a tampone. Quanto alla provenienza degli attualmente positivi questo il quadro aggiornato 34 casi a Campobasso, 5 a Campomarino e Termoli, 4 a Sant'Elia, 3 a Disernia, 2 casi a Campolieto e Forlì del Sannio, un caso a Boiano, Ururi e Filignano. E parliamo ancora dell'accoglienza migranti a Disernia con la replica del sindaco D'Apollonio a chi lo accusa di non aver fatto nulla per contenere i nuovi arrivi in città. Non è vero che al Comune si dorme, ha detto il confronto con le istituzioni è continuo e ci ha permesso di raggiungere buoni risultati. Sergio Di Vincenzo. Il Comune di Sernia non dorme affatto, ha seguito e continua a seguire con la massima attenzione la gestione dell'accoglienza dei migranti attraverso rapporti costanti con i vertici della regione e con le prefetture. Questa in sintesi la replica del sindaco Giacomo D'Apollonio alle accuse di immobilismo rivolte all'amministrazione comunale di Palazzo San Francesco dopo l'arrivo e le fughe dei tunisini. Io ho rappresentato il Comune di Sernia in maniera autorevole, in maniera ferma, proprio sulla questione dei migranti, sia presso la prefettura di Campobasso, giorno che ci siamo confrontati in previsione dell'arrivo dei migranti. Abbiamo posto delle condizioni che erano quelle, a prescindere dei controlli sanitari fatti in precedenza, di sottoporre tutti i migranti che arrivavano sul territorio molisano a tampone e di osservare una quarantena ferrea. Queste sono le condizioni che sono state accettate. Devo dire che ho trovato un buon sostegno e un aiuto da parte del Presidente della Regione che si è abbattuto a livello regionale su questo fronte. Siamo stati compresi dal prefetto di Campobasso. L'unico sindaco quel giorno presente era il sottoscritto. Abbiamo lavorato in maniera sinergica. Lo abbiamo fatto con confronti quasi quotidiani, con tavoli tecnici, con comitati presso la prefettura di Senna, con il prefetto di Senna, con il quale c'è un ottimissimo rapporto istituzionale. Farò sempre il mio dovere. Quindi qui non si dorme come vuole far apparire ai cittadini qualcuno. Da Pollonio si è poi soffermato sul mancato via libera all'approvazione dello SPLAR da parte del Comune di Sernia. L'adesione al progetto avrebbe permesso di limitare il numero di arrivi in città, tra l'altro senza dover ricorrere alle gestioni da parte dei privati. Ma la proposta del primo cittadino fu bocciata come noto dal Consiglio Comunale. Quelli che si lamentano oggi chiaramente adesso fanno la voce grossa e hanno bocciato questo tipo di situazione. Noi ci siamo fermati. Io mi sono rimesso al volere del Consiglio Comunale e dei consiglieri che rappresentano i cittadini. E quindi adesso stiamo andando avanti su questa strada. Però insomma controllando la situazione secondo me in una maniera migliore possibile. Ma purtroppo il Comune non ha un ruolo. Questo lo dobbiamo far capire a tutti quelli che parlano e straparlano. I sindaci rappresentano le situazioni, fanno la voce grossa, cercano di rappresentare le proprie stanze, possono avviare anche le vie legali, le vie giurisdizionali. Ma il lavoro che fanno i sindaci è il confronto con le istituzioni. Operazione congiunta di Capitaneria di Porto e Polizia di Stato di Termoli per impedire la pesca abusiva sul tratto di mare del lungomare nord della città adriatica. Le sette unità intervenute con due pattuglie e una motovedetta hanno accertato che tre persone erano intente a recuperare del pescato dall'arenile catturato da reti messe abusivamente. Per loro sono scattate sanzioni per 3.000 euro, il sequestro di 5 chili di pescato e 50 metri di rete da pesca. Non contenti dell'accaduto, i tre sono ritornati sul posto poco dopo per aggredire e minacciare chi secondo loro aveva segnalato le attività illecite alle autorità. L'intervento tempestivo della volante della polizia ha impedito che la situazione su cui i risvolti penali si sta procedendo degenerasse ulteriormente. E ha trivento comunità in lutto per la morte del sergente dell'esercito Fabrizio Ariola, 38enne di Foggia, ma sposato con una donna del centro Trignino. L'uomo era alla guida della sua moto tra Foggia e Sansevero quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo. Violentissimo l'impatto contro il guardrail, inutili soccorsi, è morto poco dopo lo schianto. Ariola lascia la moglie e i due figli, tanti messaggi di cordoglio anche al suocero del sergente, il dirigente della regione Molise, Nicola Pavone. Tra questi anche quello del vicepresidente della regione, Vincenzo Cotugno. Sono ancora in attesa di ricevere la cassa integrazione relativa ai mesi del lockdown. Sono i lavoratori del settore dei trasporti, le pratiche delle aziende, la denuncia dell'UGL. Sono ferme inspiegabilmente all'Inps. Il governo aveva promesso che nessuno sarebbe stato lasciato solo ad affrontare le conseguenze anche economiche del coronavirus. Invece in Molise, come in molte altre regioni italiane, centinaia di lavoratori del settore dei trasporti sono rimasti soli. E come? Perché da quando è iniziata la pandemia sono ancora in attesa di ricevere la cassa integrazione. Malgrado l'approvazione da parte del fondo bilaterale, le pratiche presentate da alcune aziende sono ferme all'Inps. La denuncia è dell'UGL Molise che sollecita interventi urgenti per venire incontro a centinaia di famiglie molisane. Il fondo bilaterale dove tutti gli autoferro-tranvieri italiani contribuiamo con nostra quota mensile, quindi accantoniamo dei soldi. Era stato costituito per altre esigenze, però in questa esigenza sanitaria avevamo 80 milioni di euro, quindi abbastanza per coprire tutte le esigenze di tutte le aziende italiane. Tranne c'è stato un piccolo intervento da parte dello Stato, se non sbaglio di 300 mila euro, per coprire tutta la cassa integrazione. Il fondo, una volta che ha approvata la domanda, tramite l'Inps, sono questioni tecniche, ma in realtà è il fondo che paga, arrivano le domande all'Inps e si bloccano. Non riusciamo a capire il perché. Loro ci dicono che le aziende ancora non trasmettono il famoso modulo SR41, ma se l'Inps non trasmette un codice alle aziende, le aziende non se lo possono inventare e quindi i lavoratori non percepiscono la cassa integrazione. Ci sono alcuni lavoratori che hanno lavorato zero euro, quindi tre mesi, senza lavoro e senza un sostegno. Questo è gravissimo e noi ancora oggi, il settore autoferro-tranvieri, ma anche altri settori, perché io parlo da segretario regionale, ancora non percepiscono nessun tipo di reddito. A tutt'oggi io non ho avuto un riscontro ufficiale per iscritto, ho interessato anche il segretario di categoria che ha fatto anche lui una nota all'Inps centrale perché è un'anomalia soltanto e esclusivamente molisana. Quindi per me, perdonatemi, poi vediamo che i politici non trovano nessun cavillo, nessun riscontro, nessun controllo e gli viene erogato il bonus, nonostante che percepiscono uno stipendio molto abbondante, diciamo così, per non offendere nessuno. Il segretario generale provinciale della Polizia Stradale di Campobasso, Vincenzo Robusto, fa sapere di avere inoltrato al Ministero dell'Interno una nota alla vigilia di Ferragosto, considerata l'urgenza, per chiedere un intervento che possa sanare la grave situazione che continua incessantemente a degenerare. Nello specifico Robusto chiede che venga assegnato un congro numero di personale giovane alla Stradale di Campobasso e al distaccamento di Termoli, considerato che dal recente piano di ripartizione del personale reso noto da Roma risulta ancora una volta, così come negli ultimi cinque anni, che non è stata prevista alcuna prossima assegnazione. Ed ora parliamo di un progetto europeo cui ha aderito anche il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, un progetto che riguarda salute e benessere. Ne abbiamo parlato con il Presidente del Parco Giovanni Cannata, Tonino Danese. Utilizzare i parchi come laboratori naturali sostenibili per la salute è l'idea del progetto della Federazione Europea dei Parchi, cui aderisce anche il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Il Presidente Giovanni Cannata, ex rettore dell'Unimol, ha spiegato le finalità. È un progetto che tende a far sì che si parli e si studino le condizioni della salute, che vedono appunto i parchi come laboratori dello sviluppo sostenibile e della salute. Tenuto conto, ne cito solo qualcuno, delle potenzialità che un parco può offrire. Il parco può offrire delle attenzioni, delle cure particolari dal punto di vista degli aspetti cardiologici, degli aspetti pneumologici, degli aspetti della riabilitazione, degli aspetti della disabilità. Sono tutti aspetti connessi alle questioni della salute che noi vogliamo rafforzare all'interno dell'esperienza del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Attenzione particolare, ha detto ancora Cannata, è per i giovani, i ragazzi. L'abbiamo segnalato anche al Ministero dell'Istruzione nel momento più critico del lockdown, pensando a quelle che potevano essere le possibilità di utilizzo dei parchi come luoghi per la ripresa, per la socializzazione dei ragazzi, per la ripresa, per l'uscita da quella condizione di chiusura e quindi per assicurare quel benessere non solo fisico ma anche spirituale che ai ragazzi poteva essere, che era dovuto, diciamo, dopo il periodo di chiusura. L'idea è un po' pensare, se volete, in maniera molto semplice come immagine, ai parchi come dei grandi centri benessere naturali. Un progetto di laboratorio naturale sostenibile che possa poi essere avvantaggio anche delle generazioni di domani. In questi ultimi mesi molti hanno riscoperto le aree interne e montane del nostro paese. Nelle vacanze, secondo Cannata, non bisogna spegnere i riflettori, ma puntare ora sul potenziale che hanno per la salute e il benessere. Pensate al rapporto, per esempio, tra sport, salute e vita all'aria aperta e quindi parchi, un potenziale importante che va sfruttato, utilizzato certamente, con intelligenza. I comuni molisani del Parco Nazionale, Abruzzo Lazio e Molise, con le loro potenzialità naturali, possono giocare un ruolo importante in questo progetto. I cinque comuni del Molise possono giocare un ruolo interessante, perché lì, per esempio, potremmo ubicare attività di formazione, di socializzazione, di ospitalità anche per le scuole. Per quanto mi concerne, ho già scritto da alcuni responsabili delle istituzioni scolastiche, da alcuni dirigenti scolastici, invitandoli a utilizzare le nostre potenzialità. Il programma verrà messo in sviluppo nei prossimi tempi. Questa è già una delle iniziative alle quali pensiamo per la ripresa dopo settembre. Il Molise è un luogo che fa bene, è incredibile che fino ad oggi sia stato poco conosciuto, ma sono certo che in futuro la gente si legherà al Molise e diventerà una sorta di luogo rifugio. Lo dice il poeta e paesologo Franco Arminio in questi giorni in regione che ha definito vitamina M. Lo ha intervistato Enzo Luongo. Franco Arminio, in un'estate piena di incontri, pienissima di incontri per te, qualche giorno in Molise, è una regione che ami in modo particolare, tra te che hai fatto la definizione diventata famosissima, vitamina M. Perché? Perché le vitamine fanno bene, no? Il Molise fa bene. Io penso che in un'Italia concitata, tutta urbanizzata, affollata, trovare un posto un po' schivo, appartato, più silenzioso, insomma, fa bene. Io penso che gli italiani nei prossimi anni verranno in Molise proprio a trovare questo ritmo un po' diverso. E poi questi paesi sono delle perle. In realtà è quasi incredibile che negli anni passati il Molise sia stato così, diciamo, misconosciuto, no? Però alla fine va bene. C'è proprio bisogno di luoghi poco visti, poco battuti, poco attraversati. Quindi secondo me il Molise è la terra del futuro. Serviva il Covid, secondo te, per far riscoprire piccoli luoghi, visto che quest'anno nei paesi molisani c'è più gente, insomma, è evidente. Beh, intanto perché molti andavano all'estero per questa idea di dove vai, vado, no? E quindi ovviamente il fatto di dover restare in Italia ha favorito, anche le città d'arte sono un po' in questo momento non tanto, diciamo, così buone da vedere, sono un po' pericolose, cioè c'è affollamento. Il Molise offre un distanziamento naturale, appunto, quindi... Però la sorpresa qual è? Che poi uno arriva e vede, no, ma questo è un posto bello e quindi secondo me ci sarà proprio un processo di... La gente si legherà al Molise, diventerà una sorta di seconda residenza. Io sono... Sto in Romagna, ma sto anche in Molise, sto in Lombardia, ma sto anche in Molise. Dovrebbe essere una sorta di doppia residenza. Noi siamo italiani e molisani, potremmo lanciare quest'idea, no? Che il Molise è un po' il vostro rifugio. Nei tuoi incontri di tantissima gente, il tuo libro è primo in classifica, tra libri di poesie, te lo aspettavi, è un bel successo. Il libro è sempre un problema in Italia, non è che è una nazione in cui si legge tantissimo. Sono contento soprattutto dell'adesione, dell'entusiasmo delle persone che mi portano il libro dicendomi che gli fa del bene. All'interno delle vendite questo conta, conta la risonanza che produce un testo. Quindi sono contento e questo mi dà la spinta ad andare avanti, a oltranza. Un'ultima cosa, visto che siamo a San Giovanni in Galdo, che ha inventato questa idea delle case riaperte per ospitare turisti. È una buona idea secondo te? Assolutamente sì, io ne avevo parlato a fare i sindaci. Direi che si può ampliare in varie direzioni. Una, se mi permettete, un'ulteriore idea potrebbe essere quella di regalare, simbolicamente, una casa a dei personaggi illustri, mandargli una lettera con delle chiavi. Hai una casa a San Giovanni. Magari quello viene, Renzo Piano, Benigni, magari viene una volta all'anno, però sa che ha una casa a San Giovanni. Quindi diventa una sorta di cittadino aggiunto. Ecco, bisogna aprirsi all'impensato. Voi siete sulla buona strada. Secondo me si tratta di continuare. Non è svendere il paese, ma in realtà è donare il paese a delle persone che a loro volta doneranno, non solo appunto la loro, diciamo così, economia, ma doneranno il loro sguardo al luogo. I paesi bisogna arieggiarli, aprirli. Voi lo state aprendo. Mi sembra fondamentale questo. Il giornalista Domenico Iannacone ha inaugurato la decima edizione della Festa del Morruto a San Giovanni in Galdo. Una serata emozionante nel rispetto delle normative anti-covid in cui ha raccontato le storie delle sue inchieste, ma anche il suo molise e la sua torella. Sentiamo. Le storie che racconta vengono fuori pacatamente, senza contaminazioni, solo dalle risposte dei protagonisti, dai silenzi, dagli sguardi, dalle immagini e arrivano dritte al cuore. Domenico Iannacone fa giornalismo sociale puro, senza mai voler essere protagonista, entrando nelle storie, vivendole e facendole emergere con arte maieutica quasi, nel rispetto di chi ha di fronte e senza sconti per l'ingiustizia. A San Giovanni in Galdo, nella serata inaugurale della decima festa del Morrutto, si è raccontato e ha raccontato il suo lavoro attraverso pezzi delle sue trasmissioni in un dialogo con il giornalista Enzo Luongo e direttamente con il pubblico, distanziato e con mascherina. Ha raccontato il suo molise e la sua torella, quel piccolo che ci caratterizza ma che in realtà è grande, è patrimonio immenso, unico di comunità, condivisione. Molise che accoglie, che fa sentire l'ospite a casa, riscoperto dai turisti anche grazie a progetti come quello di San Giovanni in Galdo, che ha messo a disposizione case gratis per far scoprire questa terra. Un'idea che dovrebbe essere adottata da tutti i comuni molisani per bando regionale, ha detto Iannacone. Ogni pezzo di questo paese può diventare una vetrina, perciò vi dico che bisogna mettere in relazione queste cose. Io ho detto a Stefano, al presidente dell'associazione, io voglio che tu partecipi e venga a proporre questa cosa anche nel mio paese, ma anche negli altri paesi. Cioè qui non bisogna essere gelosi. Il meccanismo della gelosia, del campanilismo, qui non deve esistere. Cioè qui si vince o si perde insieme. La forza di un'intera regione. Magari non ci saranno più tante case qui per accogliere i turisti. Bene, si dirottano. Stefano mi diceva una cosa bella. Noi dobbiamo fare in modo che non ci si chiuda. Noi, le persone che vengono qui, e credo che me lo potranno testimoniare in qualunque momento, sono spinte a visitare gli altri luoghi. Le immagini della terra dei fuochi, forti come monito, tutto quello uccide e da noi non deve mai accadere, ha sottolineato il giornalista, momenti di riflessione e commozione, come la storia del tassista milanese che stava per perdere la casa, ma un gesto di rara solidarietà umana l'ha salvato, grazie all'inchiesta di Annacone. Poi Napoli, con le sue storie spesso inverosimili, come quella di un insolito e divertente set fotografico di una coppia in procinto di sposarsi, la durezza muta delle immagini dei vestiti di Pasolini che indossava quando fu ucciso, la delicatezza profonda di Ezio Bosso, le condizioni estreme degli immigrati di colore a Rosarno e la bontà di un autista, a cui la vita non ha risparmiato dolori. Il finale, commovente, con la storia di Pierpaolo, uomo con la sindrome di Down, che ha assistito la madre anziana con l'Alzheimer a Campobasso, storie che lasciano il segno, che ci faccio qui? La risposta, forse, sta nell'insegnamento che si può trarre da esse quel recupero di un'umanità da molti persa. E si chiude con successo l'iniziativa Scontagiamoci, iniziativa di solidarietà nata dal desiderio di un imprenditore, un professionista, amici e sostenitori del gruppo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Campobasso. Dal 16 marzo al 30 aprile, con 209 donazioni effettuate, sono stati raccolti poco più di 223 mila euro, con cui sono stati acquistati 16 ventilatori polmonari, 500 mascherine protettive del tipo FFP2, 70 caschetti protettivi con visiera. Risultati che sono andati oltre ogni più rosa aspettativa, e questo grazie alla sensibilità e alla generosità dei molisani. hanno commentato gli organizzatori. La nostra è stata un'iniziativa concreta che oltre ad aiutare il personale sanitario del nostro Molise, quindi i nostri corregionali colpiti da coronavirus, non ha dimenticato le esigenze dirette della comunità e delle famiglie hanno concluso. Anche il porto di Termoli ora ha un defibrillatore da usare in caso di emergenza. Il dispositivo è stato donato dalla famiglia Guidotti ed è a disposizione degli operatori portuali e di tanti turisti che ogni giorno transitano sulla banchina per raggiungere le tremiti. Manuela Iorio. Un defibrillatore in porto a Termoli, pronto per ogni emergenza e a disposizione di chiunque transiti nello scalo e ne dovesse avere bisogno, dagli operatori portuali stessi ai turisti che si imbarcano per le isole Tremiti. Il prezioso dispositivo è stato donato dalla GS Travel della famiglia Guidotti che con il suo catamarano Zenit collega giornalmente il Molise alle Diomedee e dal prossimo settembre tornerà a viaggiare verso la Croazia. La famiglia Guidotti ha fatto questa donazione per il porto di Termoli, soprattutto sulla banchina principale, trasporto passeggeri e mercantili, visto che questa è una banchina da quando è iniziata a fare le isole Tremiti è pensata veramente a percepire che c'è veramente un grosso flusso tra i mille e i mille e cinquecento persone al giorno su questa banchina e quindi abbiamo donato veramente con il cuore questo defibrillatore a servizio di tutti, non solo di chi è locale ma soprattutto anche dei passeggeri per dare anche un segnale di attenzione al nostro territorio visto che siamo del territorio. L'inaugurazione c'è stata la presenza degli assessori regionali Nicola Cavaliere e Michele Marone della consigliera regionale Filomena Calenda degli amministratori di Termoli Giuseppe Mottola e Silvana Cicciola hanno partecipato anche la misericordia il comandante della Capitaneria di Porto Francesco Massaro Noi tutti i comandanti e parte dell'equipaggio hanno tutti i corsi BLSD questo vuol dire che, diciamo, questo è un ufficio che nell'arco di 365 giorni all'anno è aperto dalle 7 di mattina alle 20-21 di sera dell'estate però questo non vuol dire che per forza questo defibrillatore deve essere usato da chi è l'operatore di quattro ships essendo pubblico in qualsiasi momento siccome sono abbastanza semplici e poi abbiamo l'aiuto anche della Mese Ricordi in cui spiegherà come è il funzionamento anche qualsiasi persona può semplicemente utilizzarlo. È stata pubblicata in questi giorni su YouTube una nuova videoclip del cantante Isernino Alessandro Veneziale dal titolo Mille Parole accompagna il terzo singolo estratto dall'album Sorgere i video sono sempre abbelliti dai bellissimi paesaggi molisani alcuni tra i più conosciuti altri invece tra i più nascosti e caratteristici l'ultimo è ambientato in parte nel Cadillac Ranch di Pesca le riprese sono state curate da Lorenzo Albanese le ballerine Marika Coletta Francesca Fuschino e Marika Sisti hanno arricchito il video con le loro coreografie la canzone di Veneziale è un himno alla vita e al desiderio di essere liberi Parliamo ora del Campopassusam Festival del concerto di Niccolo Fabbi in programma per il 24 agosto al parco del quartiere San Giovanni i primi 800 posti sono stati assegnati nel giro di poche ore domani venerdì 21 agosto a partire dalle 10 saranno disponibili altri 200 posti la prenotazione sempre attraverso l'app Quanti siamo? domani sera ultimo appuntamento per la rassegna di cinema al corso a Campobasso alle 21 in Piazza della Vittoria dell'ultimo film in programma ovvero Le Mons 66 la grande sfida pellicola del 2019 del regista James Mangold la proiezione è gratuita ma c'è l'obbligo di prenotazione al Castello Monforte sempre alle 21 nuovo appuntamento serale con gli amici della musica e con musica in città Vittorio Sabelli Clarinetto e Marco Molino Marimba presenteranno al pubblico Ciorando Brasil e con questa notizia concludiamo il nostro telegiornale grazie per l'attenzione a tutti voi una cordiale buonanotte grazie per la visione